E la bolla di calore aumenta anche i rischi sui luoghi di lavoro. Vediamo allora l'allarme dei sindacati e le norme a disposizione delle aziende nel servizio di Annalisa Azzurro. Sotto il sole cocente sistemano strade, ristrutturano palazzi, raccolgono frutta e c'è poi chi in fabbrica è a contatto con processi a temperature elevatissime, oltre i 35 gradi reali o percepiti. Già dal 2017 per le aziende è possibile chiedere la cassa integrazione per eventi meteo avversi. Lo ricorda l'INAIL nel decalogo con cui raccomanda ai datori di lavoro di rispettare le pause, di mettere a disposizione aree ombreggiate o apposite zone di ristori. Non obblighi insomma. Ed è questo il punto. I sindacati non ci stanno e si rivolgono con una lettera unitaria alla ministra Calderone affinché fornisca urgentemente indicazioni alle imprese su come e quando modificare turni e orari d'uscita, rivedendo per l'emergenza l'organizzazione di produzioni o uffici. Il caldo di questi giorni aumenta pericolosamente i rischi, ma le norme ci sono ed è inaccettabile morire sul posto di lavoro, dice il segretario generale CGL Landini, annunciando di aver chiesto alle aziende incontri urgenti per valutare soluzioni anche estreme come l'astensione temporanea dell'attività. Qualcosa di simile si è verificato ieri qui nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, dove gli operai addetti all'assemblaggio delle Panda sono stati fatti uscire alle 16.